Delgrosse è un momento delicato, intanto vi siete presi da quello che si è capito una settimana per riflettere ma comunque per lavorare in autogestione e poi con la figura del capitano a guidare il gruppo. Sì, è una scelta fatta insieme alla società proprio per dimostrare anche alla società, a noi stessi anche con quello staff che c'era, che comunque anche noi giocatori abbiamo delle colpe e quindi vogliamo metterci anche nella faccia assumendoci le nostre responsabilità. È un gesto nuovo, forse un gesto anche coraggioso, però sinceramente abbiamo secondo me tutte le carte regola per uscirne da questa situazione. Per quanto riguarda la guida tecnica se ne stanno occupando, quindi questa cosa non deve far pensare nulla di strano ma solamente un'azione voluta insieme da società e anche squadra per prendersi le proprie responsabilità e per cercare di uscire da questa situazione nella maniera più veloce possibile dando anche la possibilità alla società appunto di scegliere l'allenatore che reputa insomma adatto in questo momento. E come c'è stato modo di far tornare sui suoi passi Ronci? Per noi Ronci continuerà ad essere un punto di riferimento perché quello che ha fatto lui in un anno e mezzo a Chieti pochi allenatori l'avrebbero fatto. Ecco, alle porte c'è una partita molto difficile, delicata vista anche la situazione in classifica. Il Campobasso ha avuto un momentaccio di crisi vera e ne sta uscendo, quindi io sono fiducioso che anche il Chieti possa riprendere il cammino che aveva intrapreso qualche domenica fa.